Ben trovate cari amici, come vi avevo promesso nella scorsa puntata, a partire da questa vi proporrò un nuovo format, un format sicuramente sperimentale e per certi versi un format improvvisato. Perché? Perché con l'idea, sull'idea della puntata di qualche settimana fa, quella in cui vi ho portato a spasso per Firenze, ebbene in questa serie di puntate voglio portarvi questa volta a spasso per l'Italia. Una passeggiata quindi virtuale in cui vi porterò alla scoperta di alcune delle nostre migliori meraviglie, meraviglie famose ma anche meraviglie meno note, meno conosciute. Andremo alla scoperta di angoli segreti dell'Italia, ne scopriremo la storia, i misteri, le curiosità. Spero che questa idea possa incuriosirvi e avete voglia di farmi compagnia? Bene dai, andiamo! Grazie a tutti! Ci troviamo a Sutrium, l'antica Sutrium, oggi chiamata Sutri, quella che Livio definì la Porta dell'Etruria. Dietro di lei potete vedere questi anfrati, queste grotte che in realtà sono delle tombe monumentali. Sutri è una città antichissima, di origini etrusche, nelle quali possiamo trovare ancora delle vestigie del suo passato, delle vestigie interessanti che in questa puntata andremo a osservare insieme. Allora direi che prima di andare a vedere la prima tappa che faremo sarà quella dell'anfiteatro, l'anfiteatro romano, etrusco, le origini non sono ben chiare. Prima però di andare all'anfiteatro ci andiamo a prendere un caffè, che ci vuole, e ci accendiamo poi un bel sigaro. Allora dopo aver preso un caffè, prima di entrare a visitare questo parco archeologico, in particolare, visiteremo per prima cosa l'anfiteatro, ci accendiamo un sigaro. Andiamo! Per entrare all'interno di questo anfiteatro dobbiamo fare biglietto ovviamente perché tutta quest'area archeologica, quest'area antichissima, densa di vestigia di epoche passate, è stata musealizzata. È infatti un parco, un parco regionale, per quanto il parco più piccolo del Lazio. Vi do anche la mappa del posto? Sì, grazie. Allora, intanto questa è lei? Sì, grazie. Sì, grazie. Sì, grazie. Sì, grazie. Siamo adesso all'interno dell'antico anfiteatro di Sutri, un anfiteatro veramente antichissimo, ma la particolarità di questo anfiteatro non è tanto e solo la sua antichità, ma il fatto che è stato letteralmente scavato nella roccia, nel tufo scuro, nel tufo rosso e nero di queste zone. Ma pensate, la scoperta di questo anfiteatro è avvenuta soltanto in tempi relativamente recenti perché questo anfiteatro fino al secolo scorso, anzi, fino alla metà dell'Ottocento era completamente interrato, era seppellito da metri e metri di terra ed è stato scoperto dalla famiglia che aveva la proprietà di queste terre e che quindi verso la metà dell'Ottocento l'ha riportato letteralmente alla luce. Quindi è una scoperta, come vi dicevo, relativamente recente. Ma proviamo a montare sull'ispalte, a guardarli più da vicino. Questo è un anfiteatro che è lungo quasi 50 metri e largo 40, quindi ha una forma ellittica. Ora ci troviamo all'interno della cavea meridionale e qui abbiamo una galleria che ci dovrebbe consentire di arrivare sull'ispalte. Andiamo a vedere. Mi sono accompagnando in questo viaggio, oltre due letterati, una storica e un filosofo, anche il mio figlio. Ed eccoci qua, improvvisamente, sugli spalti di questo splendido anfiteatro. Non è esattamente chi era l'origine di questo anfiteatro, se etrusco o romano. Quello che possiamo dire è, data le caratteristiche architettoniche, presumibilmente è stato costruito tra l'inizio del primo secolo avanti Cristo e la fine del primo secolo dopo Cristo. Alcune aree di questo anfiteatro, come vedete, ovviamente per preservarlo sono state chiuse, quindi purtroppo sono inagibili. Ma comunque abbiamo avuto l'opportunità di vederlo dall'alto e quindi di fare una panoramica generale su questo anfiteatro. Un anfiteatro che presumibilmente mi aveva utilizzato per i giochi gladiatori e forse magari anche per qualche funzione religiosa, per qualche funzione rituale. Ha dieci porte, cinque su un lato e cinque sull'altro. E poi c'è, lo vedete, lì al centro un palco che presumibilmente doveva essere un palco reale, quindi dedicato ad ospitare le persone nobili del tempo. Entriamo adesso in una di queste porte e vediamo quindi le gallerie che percorrevano il perimetro di questo anfiteatro. come potete vedere sono piuttosto anguste. Io devo camminarci chinato perché altrimenti batto la testa. Ebbene, queste gallerie percorrevano, percorrono tutto il perimetro dell'anfiteatro e periodicamente ci sono delle porte che si affacciano al centro e poi delle scale che ci permettano di salire sugli spalli. In questo caso, vedete, in questo caso è chiusa. Quello che adesso vi faccio vedere è un antico Mitreo. Mitreo o Mitreo? Mitreo. Dunque, vi dicevo, quello che adesso vi faccio vedere è un antico Mitreo. Mitrei erano dei luoghi di culto del Dio Mitrao. Un culto misterico, giusto? Un culto misterico di origine persiana. Come potete vedere dalle immagini è un luogo ipogeo, suggestivo e anche un filo inquietante. E' stato in passato una tomba etrusca, quindi un tempio dedicato al Dio Mitra e, infine, verso il XIII-XIV secolo d.C., è stato convertito in chiesa, la chiesa della Madonna del Parto. Nelle navate oggi si possono ammirare splendidi e freschi, infatti, di madonne. Questi qui su questa colomba. C'è simboli tipici del primo discorso, ma oggi qui c'è il pesce, no? Gesù, 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 Chistoste, Iosotè, il pesce. Quindi, che è un simbolo di Cristo questo. Esatto, perché proprio il Ictius si scioglieva questo pittogramma in Gesù Cristo, figlio di Salvatore, il nodo di Salomone. Anche questo. Questo qui sarebbe il nodo di Salomone. Sì, simbolo di salvezza fra Dio e l'umano e l'umanità, insomma. poi appunto l'ottavo di San Pere e gli altri 1.300 in rilievo per l'ottavo con i molti indietro, sì, molto particolari quindi l'origine del nome Sutrium Sutri non è chiaro? no, assolutamente no comunque le origini di questa città sono praetrusche assolutamente ci sono abitati a Tritata del Bronco esatto, sì, sì, in campagna voi questo è qui questo è qui questo è qui no, Dario, questa qui non è un letto questa qui era una tomba qui ci stava uno scheletro tanti anni fa quindi era una tomba cristiana c'era uno scheletro e poi non sappiamo se ci si trattere molto sicuramente questo scheletro non c'è più la tomba cristiana l'hanno messo in un posto milione e qui c'era dell'acqua questo era forse una pozza battesimale ah, quelle lì all'entrata sono due sarcofagi che sono stati poi riutilizzati come mandatoria qui c'erano degli scheletro anche qui dentro e qui non lo so, qui è chiuso a questo punto dopo aver visitato l'anfiteatro bimbi venite a questo punto dopo aver visitato l'anfiteatro proviamo a cercare la necropoli etrusca che dovrebbe essere a poche centinaia di metri dall'anfiteatro seguiamo il sentiero Giulio dai, sto registrando no, non ti lascio indietro allora ho trovato un cartello che appunto ci dice ci dà l'indicazione dove possiamo trovare la necropoli etrusca questa necropoli etrusca poi come vedremo è stata ricavata anche in questo caso come per l'anfiteatro come per il mitraio è stata ricavata scavandola letteralmente dentro la roccia dentro questi tuffi vulcanici che vedete al mio fianco cosa c'era lì dentro? lì dentro c'erano delle tombe tutte queste specie di grotte che vedete alle nostre spalle di fronte a noi sono delle antiche tombe delle tombe di epoca etrusca che risalgono ad oltre 2000 anni fa proviamo adesso a entrare all'interno di questa di queste tombe scavate come vi dicevo letteralmente dentro la roccia qui c'erano tutti gli scheletri c'erano un sacco di scheletri si trovavano in questi avvalli in questi in questi loculi scavati nella roccia e questi due potaggiano sono negli? è sporcizia quello sporcizia? è un po' escevoli così più elettri o mummie cerchiamo di informarci sulle tecniche di sepoltura degli etruschi nel frattempo diamo un'occhiata qui il soffitto di questa tomba è veramente molto bassa qui posso entrare praticamente quasi strisciando è bassissimo veramente e come potete vedere il soffitto è avvolta ci sono dei loculi scavati all'interno della roccia siamo c'erano il terzo percento che sono necropoli etrusche c'era scritto necropoli etrusca Vera ci puoi dire qualcosa sulle sepolture delle tecnici di sepoltura ancora no ancora no ancora niente andiamo a vedere? si lo tiriamo come vedete è un complesso molto articolato la cosa interessante è che appunto le articolazioni di questi complessi tombali si uniscono gli uni agli altri e hanno sono vi dicevo appunto strutturati molto articolati quasi labirintici ci sono passaggi i piccoli cunicoli che conducono una sala mortuaria all'altra quello che possiamo dire è che sicuramente nel corso dei secoli queste strutture sono state rimaneggiate più volte sono state modificate dall'uomo per essere adattate a seconda delle circostanze a seconda delle necessità sono stati dei depositi sono state delle stalle sono stati dei fienili e quindi quello che possiamo vedere oggi è solo una parte modificata rimaneggiata di quello che era un tempo sentiamo Vera che ci racconta cosa ci può dire sui riti funebili dell'Etrusco allora una scheda cura del ministero per i beni e le attività culturali della sezione della regione toscana ci informa che nel periodo più antico della civilizzazione etrusca quindi nel periodo cosiddetto villanoviano tra IX e VIII secolo a.C. il corpo del defunto era normalmente cremato e il saccofago consisteva in un'urna in seguito a partire soprattutto dall'VIII secolo e con i contatti con la civiltà greca invece si dismette la pratica della cremazione si usa invece la tumulazione dei corpi sepolture VIII secolo scusate? avanti Cristo ok quindi allora presumibilmente VIII o VII secolo avanti Cristo ci sono le grandi necropoli con le tombe che somiglieranno a delle piccole dimore per i defunti come quelle di Vietulonia o Populonia in un periodo ulteriore come questo siamo già verso il VI secolo avanti Cristo qui addirittura già verso il secolo avanti Cristo VII secolo avanti Cristo abbiamo le tombe scavate nella roccia che documentano in un certo senso anche un po' l'impoverimento del della popolazione cioè il fatto che c'è una popolazione edilizia sul nord perché non c'era più tanto spazio per fare tombe grandi e piene di corredi e quindi venivano diciamo accumulati lì un insieme e comunque non era non c'era l'uso non c'era la pratica della mumificazione no, non c'era molto dai mi grazie prego stiamo facendo letteralmente il giro dell'antichissima Sutri e come vedete è costituita da un vero e proprio sperone roccioso uno sperone roccioso autofaceo circondato quindi da queste quindi da queste sorta di mura naturali che si inerpicano verticalmente ecco che una volta varcato aggirato questo sperone roccioso iniziamo finalmente a intravedere la città nuova per così dire di Sutri eccola qua completato il giro archeologico attorno all'antichissima Sutri adesso ci rampichiamo saliamo su questo promontorio che abbiamo visto dal basso dove c'è la Villa Savorelli e questa Villa Savorelli è munita di un giardino all'italiana è proprietà privata quindi non ci possiamo entrare ma cercheremo di vederlo dall'esterno perché dovrebbe essere molto particolare ecco quella che vedete è Villa Savorelli che era appunto la famiglia potente di questa zona ed è quella tra l'altro che ha scoperto che ha contribuito alla portata alla luce dell'anfiteatro romano ecco siamo in sommità di questo sperone tu faccio che abbiamo visto prima dal basso e in sommità quindi a questo sperone la famiglia Savorelli ci ha ricavato un giardino italiano grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti bene cari amici siamo arrivati al termine di questa giornata non so questo format se potrà essere interessante non so cosa da queste riprese riuscirò a mettere insieme spero che possa essere insomma qualcosa di quanto meno che possa fare incurioside che possa in qualche modo intrattenervi comunque siamo arrivati al termine di questa giornata io sono fuori dall'agriturismo nel quale alloggeremo questa notte prima di andare a letto voglio salutarvi voglio ringraziarvi per avermi seguito in questa strana puntata alla quale spero che ne seguiranno altre sempre che vi interessino sempre che vi piacciano e per suggellare la giornata per chiudere in bellezza la giornata mi fumerò un extra vecchio deciso che è un sigaro ormai fuori produzione che è stato prodotto qualche anno fa che ho portato con me in questa in questa passeggiata per l'Italia quindi grazie per avermi seguito in questa puntata se vi va seguitemi anche nelle prossime e a presto buonanotte ciao 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 ciao